Antonio De Cristofaro sarà un giocatore del Picerno, una notizia che ha scosso non poco l'ambiente dell'audace cerignola che nel frattempo ha ufficializzato anche l'Oris Palazzo. Il giocatore era stato confermato uno dei migliori della passata stagione. De Cristofaro ha poi firmato un contratto da professionista, il primo con autonoma sottoscrizione, in data 31 luglio con il Picerno, procedura federale che invalida qualsiasi accordo con società dilettantistiche e impedisce a queste di opporsi alla cessione del tesserato. Una notizia che fa male, commentano dalla società Giallo-Blu, fa male ancora di più perché riguarda un calciatore cresciuto in questa città e un procuratore abruzzese che ha chiuso la carriera da calciatore al Monterisi nella stagione 2018-2019. Al comunicato ufficiale la società Ofantina ha anche allegato la scrittura con la quale De Cristofaro accettava l'accordo economico con il club del presidente quarto. Da noi solo gente che ama la maglia, da noi solo gente che lotta, conclude il comunicato. Una decisione, quella del calciatore 21enne che per la prima volta calcherà un campo professionistico, che da giornalisti sportivi non ci sentiamo di mettere in discussione, ma ci sono da discutere magari i tempi e i modi. Meglio magari attendere qualche giorno in più per riflettere che porre la firma su un qualsiasi accordo che poi non potrà essere rispettato. In tutto ciò, in bocca al lupo Cerignola, in bocca al lupo De Cristofaro.